Polessia, i vostri sfidanti sono, prego, Andrea Damante Asia, allora spogliatevi, sarete qui a confrontarvi per l'ultima volta con un'edizione speciale di coppia del tenibile duello delle vasche ragazzi, quindi mettetevi pure comodi, Bosco mi raccomando impegnati, Alessia tu aiutalo in ogni caso, perché ti ricordo Bosco che puoi uscire dalla casa solo in caso di vincita, ok? Quindi concentravi, allora sdraiatevi spalla a spalla, gambe dritte, le regole le conoscete benissimo, allora adesso spegnerò la luce nella stanza e dai tubi sopra di voi cadranno alcuni oggetti, voi dovrete indovinare di chi si tratta, avete pochi secondi, quindi mi raccomando concentratevi e rimanete sdraiati, uno accanto all'altro, al mio tre, Bosco, Alessia sdraiatevi però, ok, perfetto, al mio tre, cadrà il primo oggetto per Bosco e Alessia, uno, due, tre, cos'è? pesca, pesca! no, pesca e sciroppate, ha detto bene Bosco, dai, ve la do buona, eh? oggi il grande fratello è tenero, pronti Andrea e D'Asia, pronti, via! che cos'è? lo so, lo so, lo so, no, lo so, lo so, che cos'è? è solo, sono, è gamberi, gamberetti, gamberetti, bravo, gamberetti, uno pari, uno pari, Bosco e Alessia, a voi, via! la cosa mi fa la barba, la cosa mi fa la barba, si, è per fare la barba, bravi, la schiuma da barba, risposta esatta, Asia e Andrea, pronti, via! aspetta, 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 Asia e Andrea, si muove, si muove, ma che si muove, ma che si muove? si, esatto, non si muove, ma se si muove, no, non si muovono, vi garantisco che non si muovono Hanno vinto Bosco e Alessia Siete liberi